Com'è? Mi senti bene? Mi sento molto bene. Molto bene. Ok, ma la sensazione è quella più o meno quando si sta parlando con qualcuno che ha il viva voce attivato o è meglio? O è migliore? Non è meglio. Sì? Come si fa se è su un telefono. Ah, ok, perché sto parlando abbastanza vicino. Ora provo ad allontanare un po' il polso. Ora come mi senti? Ok, ora sento un po' più di eco, quindi si fa più di una voce, però penso che non sta bene. Beh, è un po' strano mettersi così a parlare all'orologio, però devo dire che in questo periodo di prova mi sono trovato in alcune situazioni veramente utili. Per esempio in bicicletta si è in una condizione, muovendosi in bicicletta, in cui con le cuffiette si perderebbe completamente l'audio di tutto il contesto ambientale, quindi potrebbe essere pericoloso. Allo stesso modo potrebbe essere pericoloso tirare fuori lo smartphone e parlare all'orecchio, oppure parlare con il viva voce, perché tenendo lo smartphone in tasca ovviamente non si riesce a sentire niente. Ecco, con l'orologio si è una via di mezzo, perché si riesce ad avere un buon viva voce con un audio potente, ci sentono bene anche dall'altra parte, infatti c'è un piccolo microfono per la soppressione dei rumori ambientali, quindi anche muovendoci per esempio si sente comunque bene e nello stesso tempo si hanno le mani libere pronte per ogni evenienza. Questo è Asus ZenWatch 2, ne abbiamo già parlato, trovate la recensione completa in descrizione oppure alla fine di questo video. Ora però facciamo un focus per mostrarvi quelle che sono le sue capacità nell'ambito telefonico e perché ZenWatch 2 è stato lanciato anche in Italia al prezzo di 179 euro. Come si fa ad abilitare le funzioni di chiamata? Prima di tutto bisogna procedere alla configurazione iniziale dell'orologio, verrete seguiti in tutti i passi quindi è davvero impossibile sbagliare. Bisogna scaricare Android Wear gratuitamente dal Play Store e in due minuti avrete finito. Per poter parlare direttamente dall'orologio dovrete anche abilitare la trasmissione audio dal menu impostazioni. Chiaramente le chiamate avverranno via Bluetooth, non c'è un supporto per sim sull'orologio. Ora, al ricevimento di una chiamata all'orologio il telefono squilleranno, potrete rispondere dall'orologio con uno swipe oppure rispondere dal telefono e in un secondo momento dirottare la chiamata via Bluetooth sull'orologio. Tutto davvero molto semplice. Durante la chiamata potrete attivare il tastierino numerico, abilitare o disabilitare l'audio, mettere in pausa e regolare il volume. Oltre il 50% però l'audio viene un po' distorto e chiaramente potrete anche terminare la chiamata. Se invece volete effettuare una chiamata direttamente dall'orologio vi basterà pronunciare OK Google seguito dal nome del contatto oppure pronunciare direttamente il numero telefonico, altrimenti con successivi swipe verso sinistra arrivare alla rubrica e tappare sul contatto desiderato per poi selezionare l'azione di chiamata. Al di là delle capacità telefoniche, ZenWatch 2 è un buon prodotto. Costa poco rispetto alla concorrenza ma offre le stesse cose avendo a bordo Android Wear. La mancanza più grande è il sensore di battito cardiaco ma è costruito bene con un telaio in acciaio e fondello in plastica resistente ad acqua e polvere con certificazioni P68 e cinturini intercambiabili da 22 mm. Le dimensioni sono forse un po' grandi o comunque non adatte a chi ha il polso piccolo. La forma allungata non aiuta certamente in questo senso. Riprendendo in mano ZenWatch 2 a distanza di mesi dalla recensione è nuovamente noto tanto spazio sprecato nella parte frontale visto che è così grande uno schermo un filo più grande degli 1,63 pollici ci sarebbe stato proprio bene così come il sensore di luminosità. La tecnologia è AMOLED e la definizione è di 300x300 pixel, non è altissima. Comunque sotto il sole si vede abbastanza bene anche se Samsung Gear S2 è davvero una spanna sopra tutti gli altri smartwatch. A livello software il funzionamento di ZenWatch 2 si divide tra le feature base di Android Wear e quelle integrate di Asus. Per la prima parte non c'è molto da dire, è il solito Android Wear con il perno delle funzioni rappresentato dal trasferimento delle notifiche al polso. Quando l'orologio si trova collegato via bluetooth è in grado di mostrarvi tutte le notifiche e in molti casi sarà possibile interagire con esse, ad esempio rispondendo ad una mail vocalmente o un sms con un emoticon o whatsapp o facebook messenger. Insieme alle notifiche troveremo Google Now o meglio una versione ridotta delle capacità di Google Now. Potremmo chiedere vocalmente di compiere queste azioni, ma a differenza dello smartphone non avremo un feedback vocale d'altoparlante. E' interessante che se ci troviamo con orologio e telefono in ascolto entrambi si attiveranno all'ok Google, ma immediatamente lo smartphone terminerà l'ascolto priliveleggiando l'orologio. La terza sfera software è legata alle funzionalità inserite da Asus. In primo luogo troviamo le feature di personalizzazione tramite l'app Face Designer. Potremmo semplicemente costruirci in ogni dettaglio la nostra watch face. Altrimenti potremmo scegliere tra moltissime altre tramite l'app ZenWatch Manager. Da qui ci saranno anche alcune feature carine come la modalità orologio che disabilita le connessioni per usare ZenWatch 2 come un normalissimo orologio. Potremmo far squillare il telefono, scattare una foto facendo partire il comando dal polso o controllare la musica. Ma la parte che più mi è piaciuta è quella legata alle app specifiche della ZenUI come Do It Later o Calendario, perfettamente integrate nell'orologio con la possibilità di compiere azioni senza dover estrarre il telefono. C'è anche ZenWatch Message che permette di scambiare messaggi e disegni con un altro ZenWatch. Infine la parte di monitoraggio delle attività quotidiane che però trovate un po' confusionaria e meno immediata rispetto a Google Fit. Siamo alle conclusioni quindi vado un po' a confermare quelle che sono state le mie impressioni in realtà al momento della recensione. Quindi un buon prodotto magari non rifinito benissimo come lo è la concorrenza ma costa decisamente meno. Perdo il sensore di battito cardiaco ma mi verrebbe da dire chi se ne frega perché per come è implementato, per quella che è la sua precisione sugli altri smartwatch davvero lascia un po' il tempo che trova. Quindi benvenga se si può risparmiare un pochino. Non è resistente all'acqua, non ha il GPS e quindi non si può utilizzare come un vero e proprio sportwatch. Non ha ovviamente il supporto per la SIM, le chiamate che avete visto si fanno tramite Bluetooth. Però in generale un buon prodotto che vi permette di fare due giorni quasi completi grazie alla batteria da 380 mAh e costa 179€ sullo store ufficiale. Difficilmente riuscirete a trovare smartwatch di nomi blasonati a un costo più basso tranne forse il Sony Smartwatch 3 che è comunque un bel prodotto ma decisamente più vecchio ormai di questo Zenwatch 2. Insomma tiriamo le conclusioni, le fila e bisognerebbe fare un discorso più che altro sugli smartwatch perché viene un po' da chiedersi quello che sarà il loro destino, quella che è la loro presa sul pubblico visto che da un po' di tempo non vengono più presentati. L'ultimo è proprio Zenwatch 2 che è stato lanciato in Italia ma in realtà era stato presentato già all'IFA dello scorso anno. In realtà però abbiamo saputo da Asus che le vendite di Zenwatch 2 stanno andando piuttosto bene. Infatti le scorte sono finite ma verranno rifornite nel giro di poco tempo. Quindi evidentemente hanno ancora un interesse nel pubblico anche italiano. Direi che è tutto, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale e farci sapere ovviamente quelle che sono le vostre opinioni su Zenwatch 2 e sugli smartwatch in genere nel box dei commenti. Un saluto da Matteo per TuttoAndroid.net Grazie a tutti.